Il techno di pause, breakcore e minimal sono questi gli ingredienti di Sonic Pulse, una inedita non stop di due giorni al Quirinetta Caffè Concerto di Roma dedicata alla musica elettronica italiana internazionale in compagnia di 15 tra i più seguiti artisti del momento dall'Italia all'Ucraina passando per il Regno Unito e la Germania. Dalla scena contemporanea infatti Vite Culture con Sonic Pulse e Calcatronica in collaborazione con Container e Stirpe 999 Anti-Label il 13-14 maggio porterà sul palco Liberty del locale romano una vera e propria festa tra live set e DJ set in compagnia di alcuni headliner d'eccezione. Headliner d'eccezione per un party d'eccezione quindi che fa incontrare la tecno scura di Skirt con Sanislav Tolkacev, uno dei più autorevoli alfieri della tecno slava e tanti tanti altri ospiti. Appuntamento il 13-14 maggio con Sonic Pulse al Quirinetta Caffè Concerto di Roma.